probabilmente nelle rubriche top parata calcio d'angolo comunque per la san giovanella pallone sul primo palo e c'è il vantaggio di zio mauro maccarese san giovanella e sbucato marrochini palla dentro per cichella spalla alla porta si gira benissimo cichella non è il suo piede il mancino allora è larga per seferi che le finte di seferi deviazione seferi fa 1 a 1 la rincorsa di cichella parte il numero otto forte mamma mia un gol fantastico di luca cichella che la incastra sotto l'incrocio passa in vantaggio da roma due trollo recupera bene pulito che pensa al tiro la palla filtra la conclusione di dell'anno ed è lui a sbloccarsi nel momento più importante della gara 2 a 2 sul finale pareggia zio mauro maccarese